Ciao ragazzi, io vi chiedo il cazzi perché un anno fa vi avevo promesso il cazzi e alla fine non ho postato più nulla, ma sono stato scoppato Ho deciso di raccontarvi in questo video dei cazzi che mi piacciono Partiamo subito I cazzi che mi piacciono sono quelli di Gemma del Sud Donald Trump Io amo i trams immigrati, tuo figlio Salvini e i gay Le cose invece che non mi piacciono sono Ah sì Poi c'altro c'è, Charizard Penso Charizard Tio, culo, Tio, matriciano, Tio, velard E niente, questo era il mio cazzo E naturalmente postate il cazzi nei commenti qua sotto Ci vediamo al prossimo video, ciao Ah ah, scusate ragazzi, sì, scusate Voglio chiudere infine questo video con un messaggio positivo Perché credo che la speranza debba essere l'ultima a morire Scappate su Marte finché ce so Cazzo Come numero uno in Italia Passa la guida Mi faccio una canna L'avvocato per poco lo fa